C'avete presente quando andate a giocare a calcetto con gente che non conoscete? Finisce la partita e è ora di annassare la doccia tutti insieme? Quando a un certo punto cominciano a volare saponette a destra e sinistra e cominciate a camminare rasi rasi al muro? Ecco, secondo me sta partita finisce con qualcosa del genere. Stanno tutto troppo bene ragazzi miei, abbiamo vinto le prime due partite e mi verrebbe da dire anche in scioltezza. Possibile che anche in questa, in casa l'Olimpico contro il Belgio ci riconfermiamo e io buttamo noi? Secondo me ciò buttano loro. Detto questo, Italia, Belgio, Nations League, super sigla, quella più bella ammaliante italiana, sensuale, romanista, no, romanista, no, youtubistica, gente, smadonnante, nonne, zie, cugine, ci sono cose più divine. Di YouTube Italia, se beccamo tra poco perché ve devo fare pronostico marcatori e risultato esatto e preparatevi che potrei sparare qualcosa di clamorosis. Detto questo, non aggiungo altro, dai che sta per cominciare. Fatta la cacca il culo si sciacqua, bidibibodibide, dai lavati il culo anche tu come me, bidibibodibide, Ve lo dico immediatamente, ragazzi, Fabio mi ha detto che potrebbe essere disponibile per la prossima live reaction dell'Italia e della Roma, ma mi ha detto che vuole vedere una baracca di mi piace su questo contenuto, che ve pesardito, non ve costa niente. Se avete aperto il video, per cortesia, lasciate like, poi gli sbatto in faccia la realtà dei fatti, non castramo in angolo e famo insieme le prossime due live reaction, non ve costa niente. Ma soprattutto mi ha detto anche di iscrivervi, se ancora non l'avete fatto e ci seguite spesso, iscrivetevi, attivate la campanella, così quando pubblichiamo qualcosa non vi perdete più niente, fateci sto regalo. Ci abbiamo due canali di calcio, un canale extra calcio, sono tutti in descrizione e come sempre compariranno qui durante il video. Io continuo ad avere una sensazione semi-positiva, ma sapete che io quando ho sensazioni positive poi di conseguenza succede qualcosa di negativo ed è pure inutile che cerco di mascherarlo e di dirvi no, succede una cosa catastrofica perché tanto il karma lo sa. Quindi devo dire comunque la verità dei fatti e a prescinde, ecco, a sto giro si potrebbe verificare il contrario. Per me vinciamo 2-1, visto che gioca Pellegrini titolare e mi sembra abbastanza in forma, segna Pellegrini. Segnarete chi? Quindi secondo me non segna frattesi e a loro ragazzi una saponetta ce la tirao pendà. Sicuramente Donnarumma si abbassa e sappiamo tutti come va a finire. Detto questo non aggiungo altro, daie che sta per cominciare. Teste di cazzo, pezzi di merda, du volte de fila, niente mondial. Bravi, 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 bravi stronzi perché tanto stasera preparatevi. Manteniamo un profilo basso, so partiti. Io ancora non so partito de cervello, strano, dai che si comincia. Dai, scarica! De solito lo piavano subito! L'avevo fatto! L'avevo fatto! Non so come sia possibile, de solito li piavano i gol dopo 15 secondi. Dai, mo c'ha nulla, lo sicuro. C'è sta qualcosa. Pisello de Cambiaso era al di là. Che ripartenza, bravo Pellegrini. Ha anche un rimpallo. Poi di Marco, ragazzi, che sgropperella, lo riscambia subito. Palla a mezzo, no, è regolarissima. Perfetta, mezzo autogol. Ah, no, 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 perché poi lo ritocca, scusate. Sbidi blin blin blin! Sbidi blin blin blin! Meglio che così, se poteva fa! Ho sputato sullo schermo. Mamma, che schifo! Eccolo! Cerca la puttana! Stiamo spingendo, ragazzi! Vai, retechi! Dai, vai, tira! Stiamo a fartire la Lolli e Benji, alta, sopra la traversa. Va bene, io non vorrei parlare, ma sti primi 12 minuti e mezzo, ragazzi, poi ne mancano ancora praticamente 80 e passa, eh. Però, chi ben comincia... Tocca fare il secondo, però, raga. Se fare il secondo, non dico che è chiusa, però te può permettere di... Mamma che recupero, non è fa... Ma lì mortacci di tu nonna! Buoni, ragazzi, che può essere una giocata importante! Il tiro, ah, però, gollo! 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 Non ha fischiato fuori il gioco, RETECHI! Ma siamo veramente noi, è l'Italia? E scherzi a parte? Guarda come siamo usciti con Di Marco. Lo shbidi blin cambio, gioco blin blin. Mette mezzo tira e poi, no, retechi è regolare. Era Pellegrini che mi sa che stava in offiside al momento del tiro. E shbidi blin blin blin. 2-0! Fammo pure il terzo, dato che ci stiamo. Io ho buttato a Marco, ho fatto bene. E non si riarsano più dai dolori. Come cazzo è? Ma fa una cosa così è meglio, no? Oh, una zanzà. No, che è? Ragno, che cazzo è? No, è un moscerino. Tonali, ridà Di Marco, palla a mezzo. Capaccia, mamma mia! È angolo? Oh, potential red card check. No, no, no! Ma no! Ma non mi è venita a dire una cosa del genere, ragazzi. Ma non mi sembrava da rosso. È rosso, ragazzi. Non ci fosse. Era troppo bello per essere vero. Era troppo bello per essere vero, ragazzi. No! Mo comincia un'altra partita. Era troppo bello per essere vero. Era troppo bello per essere vero. Allore. Allore. Vabbiamo farlo 2 a 1, eh. Preparatevi, eh. No! Porco! Me lo immaginavo. Me lo immaginavo! Guarda là, guarda. Che cazzo gli vuoi dire? Preparatevi. Sono riusciti a corciare le distanze. Con l'uomo in più. Una partita che potevi vincere 5 a 0 se continuai. 5 a 0 no, ma 3 a 0 la potevi vincere tranquillamente. Preparatevi al secondo tempo dei pannoloni e bestemmie. Eh, la vedo male, raga. 40 secondi questi. Già hanno creato una mezza occasione da call pericolosissima. Dai, che ce la puoi fare? Ma vaffanculo, va! Eh! Evitamine! Eh! Non riesco, manca a ficcare, a tirarle fuori. Vaffanculo, va! Vaffanculo, va! Non vuoi evitamine. Come far svegliare i morti? Vai! Questa era fallo, era la patacca de mamme ta. Taylor col gatto morto in fronte, oh. Eccolo, 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 eccolo lo fanno, raga. Mamma mia. Murata. No! C***o. Va a finire male, va a finire male, la perdi. La perdi sta partita, la perdi sta partita. Non ci posso credere, non ci posso credere. Non mi dica il rigore, eh? Non mi dica il rigore, eh? Non mi dire che è il rigore d'angolo. No! Mani! Mamma mia, ragazzi. Ma tanto te lo fanno uguale, tu c***o, vai. Manca mezz'ora col recupero. Mezz'ora. Mezz'ora a ste condizioni e stai due a due. Mamma mia, ragazzi. A momenti ce lo butta un'arco... Attenti, mamma mia, ragazzi. Ce la faccio più, giuro. Vedo l'ora che finisce un altro angolo. Oh, l'ha perso. Daglie, frate. Daglie, frate. Ma f***o, va. Era troppo bello per essere vero. Guarda che c***o ha fatto quest'arte. È entrato, ma è entrato. Guarda che c***o ha fatto quest'arte. È entrato, ma è entrato. Fida. Quanto merode il c***o. Guarda, per come poteva finire.